Mista e oggi vittoria di fondamentale importanza, che partita è stata? È stata una partita tra virgolette sporca perché comunque anche un po' il vento, non si poteva tanto giocare. Siamo andati a giocare sulle seconde palle noi loro, abbiamo spinto, abbiamo sofferto, abbiamo ribaltato. Io faccio un applauso ai ragazzi perché quello che stanno facendo in questo girone sta dimostrando qual è la forza morale, soprattutto loro. Poi questo che oggi mio papà compieva 96 anni, mi hanno fatto e gli hanno fatto il regalo di compleanno, quindi li ringrazio ancora di più. C'è qualcosa che non le è piaciuto della prestazione di oggi? Il primo tempo secondo me potevamo fare qualcosina di più, siamo stati bravi a pareggiarla prima della fine del tempo e quindi questo ci ha permesso un po' il secondo tempo. Direi che il secondo tempo credo che abbiamo meritato la vittoria con un secondo tempo molto molto buono, molto più intenso del primo.